Ciao da Avsim, lettera di John Elkan agli azionisti Exor, John Elkan amministratore delegato di Exor, come sapete società enorme con tantissime società controllate tra cui Ferrari, tra cui Strellantis, tra cui Juventus e si parla anche di Juventus. Non sto qui ad analizzare tutto quello che ha detto Elkan su tutti gli altri ambiti di investimento di questa società, su tutti i risultati delle altre società controllate, faccio solo notare, perché questo è un aspetto veramente chiave, che Exor rispetto al bilancio scorso dove aveva fatto registrare 1,7 miliardi di euro di utili, in questo esercizio ha fatto registrare 4,2 miliardi di euro di utili. Quindi veramente hanno più che raddoppiato l'utile, cioè miliardi di euro di utile, non stiamo parlando di patrimonio, poi c'è tutto il resto, non stiamo parlando di liquidità, quindi parliamo veramente di cifre esorbitanti. Una società ricca e potente, che ha ramificazioni in tantissimi ambiti, dalla sanità alla finanza, passando naturalmente per l'automotive, logistica, lo sport, e quindi davvero stiamo parlando di una delle società più forti, più potenti al mondo, e quindi lettera agli azionisti in cui si parla anche di Juventus. Andiamo a leggere che cosa realmente ha scritto John Elkan, punto per punto, perché le sue parole sulla Juventus, che non sono brevi, ed anzi praticamente la Juventus è una delle società di cui ha parlato di più John Elkan, Forse perché c'è più da dire e c'è anche più di controverso e di problematico da dire, non sono parole da leggere così di passaggio mentre si fanno altre cose, ma purtroppo vanno veramente analizzate, perché ci sono tanti passaggi secondo me enigmatici, ci sono tante cose non dette o dette solo tra le righe, che sono molto importanti da conoscere. Non stiamo qui a dire il tifoso non deve fare il commercialista, no, il tifoso deve fare anche il commercialista, perché da quello dipende tanto altro e tanto direttamente di quello che poi avviene sul campo. E siccome tra l'altro siamo in una congiuntura molto particolare in cui il campo è inficiato da quello che succede in altri posti, nelle aule di tribunale e nelle stanze del potere, non possiamo fare finta di nulla. E quindi quello che dice John Elkan, come tifosi della Juventus, come ambiente Juve, io tifoso di una Juve che non c'è più e infatti anche nella parola di John Elkan non mi riconosco, non riconosco la Juve, dobbiamo comunque tenerne conto, dobbiamo conoscere quello che ha detto John Elkan e analizzarlo. Quindi vi leggo passaggio per passaggio quello che ha detto, io ho preso il testo originale in inglese e l'ho tradotto della lettera di John Elkan, quindi senza intermediari, senza modifiche, interpolazioni e quindi mi soffermo sui passaggi chiave per spiegare come la vedo io il significato di quello che ha detto. Quindi il paragrafo dedicato alla Juventus si intitola un anno difficile per la Juventus, si fa riferimento naturalmente all'anno 2022. In misura maggiore di molte delle nostre aziende, la Juventus si è trovata ad affrontare crescenti avversità interne ed esterne nel 2022 che il club ha faticato ad affrontare. Già ha detto tantissimo in pochissime parole, perché peggio delle altre aziende, dopo vediamo anche un po' i numeri che già vi ho citato, ci arriviamo tra un attimo, per collocare la Juve nella sua marginalità in Exor, perché Juventus è marginale in Exor. Questo spiega anche tanto del disinteresse che noi percepiamo della proprietà rispetto al campo, rispetto alla gestione sportiva. Ma si è trovata ad affrontare crescenti avversità interne ed esterne. Attenzione, perché qui già si dice praticamente tutto. Non sono avversità esterne, ma anche interne. Ora, che cosa è successo nel 2022 a livello di avversità interna? L'infortunio di Chiesa e di Pogba non mi pare sia una cosa tanto grave da definirla una crescente avversità. I giocatori si fanno male, è sempre successo. Si è sempre dovuto far fronte a delle assenze degli infortuni. Quindi quali possono essere le altre avversità interne? Evidentemente possiamo intuire che c'è un giudizio negativo da parte di John Elkan rispetto alla gestione che è stata fatta di Juventus. E parliamo della dirigenza. E parliamo di Agnelli. Perché non possiamo pensare che le avversità interne siano le dimissioni. Perché le dimissioni non sono cadute dal cielo. Sono state conseguenza di una situazione difficile, magari esterna, però interna. Perché se Consob ti viene a fare le pulci è perché ha trovato le pulci. E le pulci chi ce le ha messe? Chi le ha fatte proliferare? Quindi avversità interne e non solo esterne. Che tra l'altro, dice il club, ha pure faticato ad affrontare. Quindi già si dice tantissimo. Poi, in generale, il calcio europeo continentale non riesce a tenere il passo con il crescente potere finanziario della Premier League. Le cui entrate dovrebbero superare la Serie A di tre volte entro la fine di questa stagione in corso. Gli effetti di questo dominio si vedono nel mercato dei trasferimenti che a sua volta può svolgere un ruolo chiave nel successo dei club. Nella finestra estiva 2022 la spesa lorda per i trasferimenti della Premier League è stata tanto quanto la spesa complessiva di Serie A, la Liga, Bundesliga e Ligan messe insieme. E questo è continuato nella finestra invernale con il solo Chelsea che ha speso più della spesa totale di tutti i club. Il calcio è ancora nella sua transizione verso un'industria completamente professionalizzata, poiché rimane una mancanza di chiarezza diffusa che sta creando tensioni finanziarie normative. Ora sembrerebbe, ci soffermiamo un attimo, sembrerebbe che John Elkan stia strizzando l'occhio alla Superlega. Ma chiaramente non è così. John Elkan sta soltanto contestualizzando, ricordiamo che sta parlando ai soci, sta parlando agli azionisti, quindi non sta parlando, sta anche parlando al pubblico, perché è una lettera che viene poi divulgata e diffusa, quindi sta anche parlando ai potenziali nuovi azionisti e ai potenziali nuovi investitori, ma certamente non sta parlando ai tifosi di calcio in senso stretto. E quindi sta contestualizzando la situazione di difficoltà della Juve, perché uno potrebbe dire, ok, una tua società è in difficoltà, tu cosa hai fatto, a parte l'aumento di capitale e gli azionisti lo sanno bene, perché i soldi ce li hanno messi l'oro, ce li hanno messi Exor, che poi appunto, non vorrei utilizzare un'espressione magari un po' scurrile, ma con 4,2 miliardi di utile, Exor che fa 700 milioni di aumento di capitale in due anni, è un po' come se avesse, cioè, vabbè, così, si è svegliato la mattina a te, ti do 700 milioni praticamente. Ma dice, tu cosa hai fatto per intervenire? Dice, potremmo fare fino ad un certo punto perché il sistema non consente di investire più di tanto, perché c'è una subalternità rispetto alla Premier League. Ma John Elcano non sta parlando di rivoluzionare il calcio o la football industry, come piace dire ad Andrea Agnelli, dice semplicemente il calcio è in una sua transizione verso un'industria completamente professionalizzata, ma il calcio è nella sua transizione, dice, noi non dobbiamo, non dice dobbiamo fare qualcosa per il calcio, sono parole, se le andate a confrontare con le parole di Agnelli ai dipendenti, la lettera ai dipendenti, a proposito, stiamo sempre aspettando che Andrea Agnelli saluti i tifosi, sarebbe ancora in tempo a farlo, vediamo che quando si è dimesso, voglio dire, la lettera ai dipendenti Juventus o quando si è dimesso, c'è una differenza totale nel parlare proprio di queste problematiche del calcio, è semplicemente una annotazione oggettiva, fattuale, sul contesto, perché i dati sono questi. John Elcano riporta i dati e dice, il contesto non è favorevole, quindi noi più di tanto non possiamo fare, e siccome dagli investimenti sul calciomercato dipende la competitività e quindi quello che si fa sul campo, non possiamo fare più di tanto anche per quanto riguarda il campo, perché abbiamo dei limiti. Io almeno la interpreto così, ma non mi pare ci sia veramente alcun appoggio ad ogni tipo di progetto che sia Super Lega o simili. Andiamo avanti. In questo contesto, vedete, ha contestualizzato, dice, in un contesto come questo, la Juventus ha avuto una perdita significativa di 239 milioni di euro nell'anno e per la prima volta dal 2011 la squadra maschile non ha vinto un titolo. Soffermiamoci un attimo. 239 milioni di perdita, nonostante questo, quindi 239 milioni che fanno parte poi del bilancio di Exor, nonostante questo Exor è passato da 1,7 a 4,2 miliardi di utili. Capite la marginalità della Juventus? Cioè con un passivo, con una perdita enorme per Juventus, enorme, quasi record, nonostante questo Exor vola. Exor non ha bisogno di Juventus. Non ne hanno bisogno, alcun bisogno. In questo momento è come un prurito che hai alla caviglia, alla gamba periferico, un prurito periferico che ti dà un po' di fastidio, e però insomma ti gratti un attimo e finisce lì. Stiamo parlando di questo. Allora come possiamo pensare che Exor abbia ed Elkan abbiano chissà quale interesse nel portare avanti il progetto Juventus? È più un fastidio che altro. Poi sicuramente Elkan non vuole essere quello che dismette la Juventus, che era il gioiellino di famiglia a cui Gianni Agnelli teneva tantissimo, e sappiamo Gianni Agnelli quanto sia devoto a Gianni Agnelli che lo ha messo a capo di tutto il suo impero. Quindi si cercherà un'altra via. Forse la si sta già cercando, forse la si è già trovata, forse addirittura è già in esecuzione il piano per disfarsi della Juve in maniera indolore. Fatto sta che 239 milioni di perdita nell'ambito di un aumento di utile stratosferico fa ridere, fa veramente ridere. Però si dice che la perdita è contestualizzata da un contesto industriale, commerciale e sportivo non favorevole ad una crescita, cioè ci sono delle difficoltà strutturali. Però, dice, anche per questo, diciamo, in questo contesto, però per la prima volta dal 2011 la squadra maschile non ha vinto un titolo. Si sottolinea questo aspetto però? E' stato sottolineato questo aspetto. E mi viene in mente la stessa lettera di John Elkand due anni fa, 2021, primavera 2021, agli azionisti in cui disse, anzi no, era l'anno scorso, scusatemi, 2022, era l'anno scorso, quando disse, quando i risultati non arrivano, il cambiamento si ritiene, il cambiamento si rende indispensabile, si rende necessario, cito a memoria, e stava parlando di Juventus, non era un discorso riferito ad altri. Ora possiamo immaginare che si riferisse ad Andrea Agnelli, mentre lì per lì pensavamo si riferisse ad Allegri. Ma è chiaro che John Elkand, a parte dire ad Allegri fa un po' quello che ti pare, fa un po' quello che riesci, non fa, perché non si occupa di calcio John Elkand, non si occupa nel merito del calcio. Come vedete, lui sta praticamente ad osservare quello che emerge in cima. Cosa emerge in cima? i risultati, proprio questi puntini che tu vai a vedere, qui che c'è, meno 239, qui che c'è, zero titoli, qui che c'è, quest'altro, e mette insieme le cose e quelli sono i dati che lui, poi che cosa c'è sotto? Cosa è servito per arrivare a quei risultati? Lo analizza a margine, ma non ne tratta e non si sporca le mani direttamente. Però questa annotazione c'è, perché è un dato di fatto. Proseguendo, dice, tuttavia è stato un procedimento legale contro il club che ha finito per occupare il consiglio di amministrazione della società che si è riunito 18 volte durante l'anno. Quindi, altra pausa, si sottolinea, quando mai vi è capitato di sapere quante volte si riunisce un CDA? Magari ce lo siamo sempre chiesto, magari facciamo quelle ricerchine su Google quante volte all'anno si riunisce il CDA e magari ti esce la ricetta della pizza in padella, non lo so. Quindi non lo sappiamo, non lo sappiamo e invece in questo caso Gianelca ci tiene a farcelo sapere, ma a farlo sapere a chi? Agli azionisti. Per la serie, tenete conto anche di quanto questa macchina è stata ingolfata per via di un procedimento legale contro il club che ha finito per occupare. Però, in questo, ovviamente c'è anche una critica a come il CDA ha operato, perché non è normale doversi riunire 18 volte durante l'anno per un procedimento legale. Evidentemente le problematiche c'erano e lo vediamo. Quante riunie del CDA e quante volte è stata rinviata all'Assemblea degli Azionisti? Ricordate sempre, fu rinviata l'Assemblea degli Azionisti prevista inizialmente per fine ottobre e nessuno disse che era una cosa grave. Io dissi, ma come? Ma non è normale che la stiano rinviando. Cosa sta succedendo? Potrebbe dimettersi il CDA e infatti successe. Ed ecco perché evidentemente tutti questi rinvii, tutto questo aggiornarsi, non è stato normale, non è stato fisiologico. È dovuto ad una difficoltà, infatti lo diceva prima, il club ha faticato ad affrontare queste avversità e queste problematiche. Quindi John Elkan ci viene a far sapere anche questo. Poi, il livello di pressione è aumentato al punto che il Consiglio ha deciso di dimettersi per consentire alla società di proteggersi nel modo più efficace da accuse che vanno dalla contabilità presumibilmente inappropriata alle comunicazioni imprecise ai mercati finanziari relative principalmente a trasferimenti di giocatori e accordi sugli stipendi dei giocatori. Un attimo perché poi c'è una frase che dobbiamo analizzare con calma. Quindi, vedete anche l'imbarazzo con cui John Elkan dice queste cose? Sta parlando ad una comunità di gente di alto livello, di alto profilo finanziario che queste cose le vorrebbe leggere solo sui codici penali. non vorrebbe trovarle riferite a se stessi ad una propria azienda. È un motivo di imbarazzo è un motivo di scandalo enorme per tutto il gruppo per tutto il gruppo dover dire accuse di contabilità inappropriata comunicazioni imprecise ai mercati finanziari cioè lo si dice veramente a denti stretti quasi bisbigliando una cosa simile però lo deve dire e dice comunque il Consiglio ha deciso di dimettersi noi sappiamo che ci sono state delle manovre dietro comunque non è che a un certo punto il Consiglio dice dimettiamoci si sono creati degli equilibri e degli squilibri che hanno portato anche un po' ad una situazione non dico forzata ma necessaria quindi alla necessità delle dimissioni per proteggersi per questo aumento del livello di pressione dovuto a tutto questo procedimento legale contro il club quindi ancora una volta un'inadeguatezza evidentemente un'inadeguatezza perché se no scusate si dovrebbe dimettere anche l'attuale CDA si dovrebbe dimettere qualunque CDA perché l'attuale CDA non sta subendo un livello di pressione aumentato direi anche di più direi anche peggio perché il CDA precedente doveva rispondere a delle accuse che erano diciamo presuntive per quanto riguarda Consob solo una chiusura una mera chiusura indagini per quanto riguarda l'inchiesta prisma penale qui invece abbiamo processo sportivo 1 processo sportivo 2 appello rinvio a giudizio udienza preliminare penso che la pressione sia molto più eppure non si dimette il nuovo CDA come mai? evidentemente non era la pressione ma l'inadeguatezza nel gestire la pressione ha portato a queste dimissioni e poi la frase che è passata di più sui giornali ma che secondo me è stata interpretata peggio di tutte la Juventus nega qualsiasi illecito qui dobbiamo fare quasi l'analisi logica intanto la Juventus quindi è un soggetto terzo John Elkan non sta non si sta tirando in ballo non sta tirando in ballo Exor non si sta coinvolgendo non si ritiene coinvolto quindi la Juventus che sta da parte fa parte di Exor Elkan sta parlando di Juventus ma sta dicendo la Juventus nega qualsiasi illecito quindi qualsiasi illecito riferito a qualunque tipo di accusa a qualunque situazione ma nega la parola chiave è nega la Juventus nega anche io posso negare qualunque cosa uno per strada un poliziotto dice tu hai rubato vieni qui tu hai rubato adesso ti arresto nego ogni illecito nego qualsiasi illecito nego di aver rubato il poliziotto che fa dice ah va bene vai pure cioè il fatto di negare qualsiasi illecito è irrilevante non è una presa di posizione qualcuno dice ecco vedi la Juve non vuole patteggiare non è vero questa affermazione non implica poi magari non vorranno patteggiare ma non implica la non volontà di patteggiare non implica di voler andare avanti perché nessuno vuole dichiararsi colpevole non è questo il punto in questo momento la Juventus nega qualsiasi illecito ma non significa che non li abbiano commessi e John Elkan in questo senso non sta assolvendo nessuno anzi si sta mantenendo di mente aperta si sta mantenendo equilibrato ed equidistante freddo e distaccato in attesa della verità la Juventus nega qualsiasi illecito per la serie io non lo so Exor non lo sa non siamo coinvolti vedremo come andrà per il momento loro negano qualsiasi illecito io devo farvelo sapere ma la Juventus nega qualsiasi illecito ed è prima di aver iniziato a parlare del cambio della guardia e adesso vediamo che cosa dice vorrei ringraziare il consiglio della Juventus per aver agito con responsabilità per la serie grazie per esservene andati agito con responsabilità per cose provocate da loro le accuse dipendono dall'operato di questo consiglio che se ne è andato quindi agito con responsabilità non può che riferirsi alle dimissioni non può che riferirsi alle dimissioni non può essere un ringraziamento per aver operato per quello che hanno fatto perché per quello che hanno fatto c'è il processo e quindi e in particolare il suo presidente del consiglio il suo io proprio in inglese c'è scritto it's chairman it's quindi riferito a esso suo di esso quindi del consiglio non il presidente della Juventus non il nostro ex presidente il suo cioè guardate che descrizione fredda Andrea Agnelli it's chairman il suo presidente Andrea Agnelli che ha guidato la Juventus durante un'era vincente e di grande trasformazione anche qui guardate le straneità il distacco la terzietà Andrea Agnelli non è Andrea Agnelli è stato artefice di una Juventus vincente ha guidato la Juve durante un'era vincente vincente è l'era non Agnelli della serie ti sei trovato lì ma non è merito tuo non poteva scriverlo in maniera più chiara non poteva dirlo in maniera più chiara lo distrugge con queste poche righe Gianelca poi io non dico che sono d'accordo con Gianelca osservo semplicemente che lo ha distrutto letteralmente si è trovato ha guidato la Juventus durante un'era cioè anche io mi posso trovare a passare mentre piovono dal cielo banconote da 100 euro complimenti complimenti ad Avsim che è passato durante una pioggia di soldi che merito ne ho anche se il merito nel calcio non conta nulla dice Allegri capite la pesantezza di queste parole siamo quasi alla fine il club ha avuto un notevole successo vincendo tutto in Italia e a livello internazionale e ha ospitato 27 campioni del mondo maschili più di qualsiasi club nella storia si sta riferendo non alla Juventus del 2022 naturalmente ma alla storia della Juventus questo livello di successo sportivo che porta grande gioia ai nostri fan crea anche tuttavia una notevole animosità che può manifestarsi quando il club affronta sfide ecco qui devo dirvi che non ho ben capito a chi si riferisca a John Elkan quando parla di questa notevole animosità cioè della serie la Juve essendo storicamente vincente è anche controversa e quindi quando ci sono delle sfide ci può essere una certa animosità potrebbe riferirsi proprio all'incapacità di mantenere una gestione equilibrata da parte del CDA di missionario potrebbe riferirsi alle istituzioni ad un accanimento ma la vedo difficile perché John Elkan non è il tipo che strizza l'occhio a queste cose infatti io sono ancora convinto che tutta questa tutta questa manfrina dei club che scrivono è tutta una cosa che non proviene da John Elkan e se non proviene da John Elkan sappiamo da dove proviene ma non abbiamo prove per affermarlo e poi per il resto questo livello sportivo è semplicemente per richiamare l'importanza della Juventus storicamente ed è spiegato dall'ultimo passaggio la Juventus ha ora un nuovo presidente Gianluca Ferrero sul quale però John Elkan non spende mezza parola dice semplicemente è un nuovo presidente mentre un nuovo CEO Maurizio Scanavino che è anche al timone della nostra società di media Jedi dove sta guidando una svolta di successo quindi Ferrero è un nuovo presidente Scanavino è il nuovo CEO che eccetera eccetera quindi è chiaro che in questo momento Scanavino che è plenipotenziario è il vero capo della Juventus è plenipotenziario perché è direttore generale e amministratore delegato non dimentichiamo quindi è il plenipotenziario della Juventus il vertice della Juventus non è Gianluca Ferrero ma Maurizio Scanavino che è anche amministratore delegato di Jedi come dice appunto come ricorda John Elkan alla Juventus Gianluca e Maurizio saranno supportati da un nuovo consiglio di amministrazione questo insomma lo sappiamo benissimo e sono in buon inizio in un buon inizio nel garantire che la Juventus affronti le sue molte sfide attuali salvaguardando al contempo la sua reputazione per consentirle di tornare più forte sia dentro che fuori dal campo sembra un messaggio in chiusura un messaggio di speranza e appunto chiudo approfondendo questo ma è abbastanza chiaro si sta parlando di una di un repulisti di una pulizia diciamo dell'immagine della Juventus sia fuori che dentro il campo sia dentro che fuori dal campo quindi dopo un attimo dopo aver richiamato all'importanza storica sportiva della Juventus si auspica anzi si garantisce si rassicurano i mercati gli azionisti e tutti quanti che la Juventus tornerà forte sul campo grazie all'opera di Gianluca e Maurizio che con il nuovo consiglio di amministrazione sono già al lavoro e in un buon inizio per affrontare queste sfide però cronologicamente cosa viene prima sono già al lavoro per garantire che la Juventus affronti le sue molte sfide attuali salvaguardando al contempo la reputazione per tornare più forte i passaggi sono tre intanto affrontiamo le nuove sfide nel farlo salvaguardiamo la reputazione che è l'obiettivo a breve termine e per salvaguardare la reputazione io ci vedo la possibilità di un patteggiamento sulla manovra stipendi perché per salvaguardare la reputazione una sanzione concordata che toglie di mezzo tutto ed evita che queste cose vadano avanti per troppo tempo sarebbe l'ideale al di là adesso del meno 15 o meno di cui sapremo domani e poi per consentirle di tornare più forte sia dentro che fuori dal campo e tornare più forte fuori dal campo non significa solo chiudere questi processi che tra l'altro a livello penale andranno avanti per anni significa anche avere una gestione migliore della precedente cioè qualcuno qualche mese fa un anno fa avrebbe detto la Juventus ha bisogno di essere più forte fuori dal campo difficile in che senso qualche critico di Agnelli come potevo essere io un anno fa e mesi fa ma per il resto non si percepiva questa esigenza evidentemente c'è proprio una bocciatura con queste ultime parole una bocciatura della gestione precedente ripeto non fatta a tu per tu al bar chiacchierando del più o del meno in una lettera ufficiale istituzionale ai mercati e agli azionisti agli azionisti e quindi ai mercati bocciatura della gestione Andrea Agnelli squalificato totalmente per come viene raccontato per come se ne parla distacco rispetto alla posizione di Juventus per questi illeciti di cui è accusata al tempo stesso ricordo e ripresa dell'importanza storica sportiva della Juventus alla quale si tornerà ma per il momento si deve soffrire nelle aule di tribunale puntando a salvaguardare la reputazione con una gestione diversa che tra l'altro resta però marginale resta marginale con questa perdita che però non scalfisce minimamente l'utile aggregato di Exor dopo queste crescenti avversità interne ed esterne questa era l'analisi che mi andava di fare sulla lettera di John Elkan agli azionisti Exor 2023 buon dibattito nei commenti like al video se vi è piaciuto condividetelo se lo ritenete interessante ed utile iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e abbonatevi al canale a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi potete seguirmi anche sul mio secondo canale Absim Out primo link in descrizione per video brevi sul calcio e ci vediamo molto presto grazie a tutti 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 grazie a tutti